E' partito questa mattina dal Codma di Rosciano a Fano, il furgone carico di beni di prima necessità, come farmaci, pannolini e prodotti alimentari a lunga conservazione. Questi aiuti sono destinati ai profughi ucraini accolti nel comune di Vielisca, nella Polonia meridionale. La città è gemellata con Fano dall'agosto 2018, ma il legame risale al 27 agosto del 1944, quando le truppe del secondo corpo polacco, comandato dal generale Anders, liberarono Fano dal gioco nazista insieme all'esercito inglese. A distanza di anni continuano i rapporti tra le due realtà anche grazie al lavoro svolto dall'Associazione Amici Senza Frontiere. Nelle scorse settimane il presidente Massimiliano Barbadoros era sin da subito attivato per capire come poter aiutare il popolo amico. Ci siamo accorti, naturalmente, quello che stava accadendo in quella zona del mondo, che ha il confine con l'Ucraina, e abbiamo visto che erano in grossa difficoltà perché Vielisca era invasa da profughi. Quindi abbiamo capito che c'era una situazione da gestire non semplice per loro. Li abbiamo subito contattati e abbiamo chiesto come potessimo essere utili in questa causa. Infatti, in un primo momento, il Comune di Vielisca era riuscito a gestire l'accoglienza con risorse proprie, ma ora avrebbe bisogno di un supporto, visto che l'emergenza non è destinata ad esaurirsi in breve tempo. Quindi ci siamo subito attivati come Amici Senza Frontiere. Abbiamo naturalmente sentito il Comune di Fano, che è l'istituzione per eccellenza, diciamo, e abbiamo trovato subito intesa e quindi è partita questa iniziativa. I prodotti sono stati caricati in un mezzo del Cibi Club Mattei, a bordo, Luigino Patrignanelli e Mauro Castratori. Partiranno due, un consigliere, un altro volontario, in pratica il secondo viaggio. L'amministrazione comunale del Comune di Fano ci ha chiesto di fare un secondo viaggio per la città gemellata in Polonia-Vitlisca e noi ci siamo prestati, perché questa è anche la nostra missione e i nostri servizi. Luigino, per quando è previsto l'arrivo? Noi faremo una tappa questa sera, nel tardo pomeriggio, nei pressi di Velisca. Dormiamo lì e contiamo di arrivare nella mattinata di domani, verso mezzogiorno o giù di lì, quell'ora lì. Siamo pronti, però comunque è un'esperienza nuova che ci galvanizza anche per il viaggio. Avevamo dato noi la disponibilità appena si era sparsa la notizia che si poteva andare e quindi il primo viaggio l'ha fatto il Presidente con un altro consigliere, con i medicinali e questo giro lo facciamo noi. Ancora solidarietà che parte dalla comunità fanese? Sì, con gesti concreti. Abbiamo fatto un appello ad alcuni esercizi commerciali proprio per favorire questo nuovo trasporto di materiali alimentari, ma anche prodotti farmaceuti, che devo dire che come sempre fanno c'è, fanno risponde con grande partecipazione. Oggi hanno aderito a questa raccolta alcuni CONAD, alcuni COAL, ma anche delle farmacie locali, per cui siamo contenti. Un nuovo furgone di Fano sarà presente per i nostri profughi.